eccoci qua di nuovo nella cripta dopo miliardi di miei tentativi perché voi non potete capire non potete neanche immaginarvi qua trovo solo bombe di bombe trovo solo cerchio ah ah schifoso trovo soltanto tombe deturpate da dei brutti e luridi tefisti questo qua non l'ho mai aperto maremma maiala sono molto stronzolone a 4000 questo si apre dato che abbiamo trovato milena brutality pranzo anticipato molto bello molto molto bello le brutality fanno sempre comodo guarda bisogna stare attento a cagnolinea o mi hanno detto di andare di qua perché mi sa che di là dopo ho aperto tutto non vorrei dire stronzare ne 5000 si apre shinnok brutality buona giornata buona giornata anche a lei che cosa sta tirando sta tirando delle cose strane vabbè tutta settimana proprio full immersion 7000 Kenshi brutality in gamba anche detta brutality bluetooth wireless full immersion da mortal kombat 5000 apriamo Kenshi kreeds brutality batosta ground and pound alla ufc è quella lì allora la farò come brutality perché mi garba molto 6000 l'apro ok tira la nana Takeda credo sta volando e poi non si capisce più un cazzo perfetto questo episodio ultra mega veloze così 5000 kata al karm brutality marinatura e beh giustamente diciamo che a lui piace la carne molto molto ben cotta quindi fa queste cose anzi spero che questo episodio lampo vi sia piaciuto l'ho fatto giusto perché avevo i dindini adesso devo trovare qualcosa che costi intorno 2000 da aprire poi si può concludere incredibilmente subito qua ho già sprofanato tutto anche questa settimana ci sarà molto mortal kombat come ho detto in un video precedente finché con street fighter non rilanciano cose importanti e anche un po' diciamo inutile giocarci dato che è scialdissimo di contenuti sto aspettando Tekken 7 e King of Fighters perché ho tantissimo voglia di giocarci soprattutto King of Fighters comunque Tekken si ricorda no? ma King of Fighters ha tantissimo che non ci gioco anche perché ho giocato soltanto nelle sala giochi perché ce l'ho e ci posso giocare sempre quando voglio no? qualcosa che costa 2000 dove? tipo qua? no? no? e vabbè l'episodio è infinito perché non trovo più un cazzo 8000 9000 maremma maiala questo è già aperto questo 6000 6000 ma maremma maiala ma mi serve una cosa dopo finisco cazzo mi fate perdere tempo non mi fate trovare le cose e io vado a sbattere contro i muri mi toccherà andare nell'altro mondo usiamo il kamidagawa lì perché qua mi sa che c'era è da un po' che non trovo le cose a tempo perché non mi date più l'opportunità di aprire non trovo più un ca... questa? no vaffanculo cagnolino vieni qua adesso che ho trovato uno che costa poco vabbè torniamo all'inizio tanto ragazzi spero che l'episodio vi sia piaciuto anche questa settimana magari porterò giusto un video su Street Fighter 5 così giustamente cioè proprio mi esce altrimenti proprio Mortal Kombat dato che vedo che vi piace tanto 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 e ne sono contento 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 perché comunque come gioco merita tantissimo l'ho riscoperto perché era da un bel po' che non ci giocavo e grazie anche al fatto dello scontro tra tritani mi sto riprendendo a giocarci tanto 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 spero che vi siano piaciute anche le altre varie finali di arcade che avete visto nei scorsi giorni dato che non ho potuto registrare video ho fatto quelli qua ho aperto ogni ben di dio ho aperto tutto qua è la madame non c'è più un cazzo da aprire cosa sono venuto qua a fare allora? a cagarmi addosso sicuramente perché si salta fuori quello la che mi fa spaventare ma anche giustamente i grandi giri a vuoto per trovare un cazzo di cosa che costa duemila oh ma quelle a tempo non escono più mai avrò fatto mica qualcosa io quelle cose lì boh lo mi devo preparare al jump scare incredibile e allora andiamo qua dentro perché qua mi ricordo che ci erano robe che costavano poco tipo questa sto cazzo no quella lì costava pochissimo ma sto cazzo vabbè adesso costano tutti quelli da 7000 trovo 5000 6000 eh fermi questo costa pochissimo sto cazzo vabbè ragazzi io vi saluto perché qua non si trova più una fava cioè più che altro ci sono di quei costi mamma mia perché adesso starò anche finendo le cose da aprire né 8000 qua mi ero perso una cosa eh vabbè ragazzi spero che l'episodio vi sia piaciuto che vi siano piaciute le cose che ho trovato e ci vediamo alla prossima Grazie a tutti.